Ehi, Lorenzo! Ti presento Roger, il padrone del locale. Arrivederci, eh? Dai, fate un tiro. Ma io non ho fumato in vita mia, no? Ma scusami, io non fumo. Ma dai, non fare il palloso. Questa erba è micidiale. Cavoli, è una... è come la camomilla. Una tisana, è una tisana che lemata. Sì, ti calmerà. Vedrai. Te fumo la te questa. Questa c'è messo dentro la rucola, però, eh? Te fumo la te questa. Andiamo, andiamo. Ciao. Tutti cominciano con il banco.